Alla fine tutto è bene, ciò che finisce bene, la mia volontà era quella di tornare qua, un po' per come purtroppo era finita la scorsa stagione, quindi avevo quella sensazione di aver lasciato un qualcosa a metà e quindi volevo tornare per cercare di ripetere la stessa andata dell'anno scorso con un fine diverso e quindi alla fine tutto è andato nel verso giusto e sono potuto tornare qua. Deve essere una stagione ovviamente fatta di lavoro come è stata quella della stagione scorsa dove cercherò di dare sempre del mio meglio sia l'allenamento e quando verrò chiamato a casa in partita anche e dovrò cercare di dare continuità a quello che ho fatto l'anno scorso e quindi ce la metterò tutta per fare questo. Secondo me questa squadra deve soltanto pensare a lavorare giorno per giorno e anche perché c'è una buona base, con i ragazzi nuovi che arriveranno dovremmo cercare di formare un bel gruppo. Secondo me stupire vuol dire migliorare se stessi e per migliorare se stessi bisogna lavorare giorno per giorno al massimo delle proprie possibilità e allora poi il campo dirà quanto varremo ma prima di tutto quello che conta è il lavoro.